Da tantissimo tempo che stiamo lavorando come politiche giovanili per dare una risposta ai giovani e soprattutto in questo momento di pandemia dove veramente abbiamo visto l'esigenza da parte dei giovani di stare insieme, di aggregarsi, di trovare dei punti di ritrovo, noi ci siamo sentiti come amministrazione in dovere di dare delle risposte. È vero che i ragazzi si spostano, ma è anche vero che hanno bisogno nel loro territorio di trovare dei punti di incontro. Due anni fa siamo riusciti ad acquistare questo immobile che è molto grande, come vedete, e qui di sopra dove una volta c'era questa sala mostra abbiamo trovato proprio lo spazio utile per poter creare questo centro di aggregazione. Il 18 di dicembre volevamo inaugurarlo perché eravamo veramente pronti sia come struttura ma anche con i tavoli, con la televisione, con la playstation, insomma era tutto pronto. Però purtroppo proprio in quel periodo i casi aumentavano a dismisura, soprattutto a Tavuglia, quindi non ce la siamo sentita. Nel frattempo però abbiamo anche ritenuto importante fare entrare i giovani, comunque dare loro la possibilità di entrare anche se a piccoli passi. Infatti sono ormai due settimane che hanno le chiavi e quindi so che hanno fatto venerdì una pizzata, so che stanno trovando il posto molto gradevole a loro piacimento, sono stata con loro l'altro giorno, hanno acceso la televisione, hanno fatto le prime partite con la playstation, poi c'è comunque il wifi gratuito, perciò anche YouTube, altri canali social sono fruibili e noi siamo veramente molto molto contenti perché riteniamo che veramente in questo momento avere i giovani come primo punto di riferimento è fondamentale. Speriamo adesso tra un mese di riuscire ad inaugurarlo, speriamo di essere in tanti e speriamo che i ragazzi capiscano veramente l'importanza e anche i sacrifici che noi tutti abbiamo fatto perché gliel'abbiamo spiegato bene, la televisione è un costo, l'arredo è un costo e quindi affidarlo direttamente ai ragazzi significa anche educarli nel rispetto all'educazione civica, nel capire come le cose comuni devono essere tenute meglio delle proprie. Come si chiama e chi potrà accedere a questa struttura? Sempre nel massimo della democrazia abbiamo deciso di lasciare ai giovani la decisione di dare un nome a questo immobile e dopo una consultazione sono venuti in comune a dirci ci chiameremo Base Tavuglia. La base vuol dire casa, vuol dire trovare il punto di incontro, un punto di partenza, dove stare insieme, dove vivere insieme, dove anche parlare dei propri problemi, quindi è molto molto bello. Poi sono stati veramente bravi, hanno dettato loro un po' quelle che sono le loro esigenze, tavolino da ping pong, la televisione con la playstation assolutamente, tavolini dove poter studiare, dove poter comunque parlare. Possono accedere tutti i ragazzi, chiaramente grandi, dai 16-17 anni fino ai 25 anni. Chiaramente non chiediamo il Green Pass ma non chiediamo da dove provengono il comune di residenza perché è chiaro che se uno ha un amico di Montecchio piuttosto che di Pesero e vuole venire è il benvenuto. La base Tavuglia è la base di tutti.